16 milioni di euro per finanziare la prevenzione del rischio sismico stanziati dalla regione toscana. Il documento operativo 2019 è stato illustrato dall'assessore regionale all'ambiente e completa gli interventi messi in campo dopo il terremoto in Abruzzo con 39 milioni di euro tra 2010 e 2018. Del totale delle risorse 6 milioni e 750 mila euro sono destinati nel 2019 a 17 interventi di adeguamento contro i terremoti degli edifici pubblici, strategici e rilevanti, cinque dei quali sono scuole, la metà degli interventi nel territorio di Arezzo. Altri 7 milioni e 800 mila euro sono invece rivolti a 249 interventi in edifici privati, in buona parte a Massa e Arezzo. Un altro milione e 360 mila euro invece servirà a svolgere studi sulla stabilità degli edifici e indagini geologiche. Quest'anno con questo programma DOPS 2019 abbiamo investito queste risorse che sono complessivamente pari a 16 milioni di euro e che negli prossimi anni verranno poi attuati sul territorio. Si sono già pronti gli atti, già entro il mese faremo già i primi finanziamenti per quanto riguarda le verifiche e gli interventi su pubblici e su privati. Sul fronte della prevenzione del rischio sismico il Consiglio regionale ha anche riformulato la legge toscana introducendo un documento operativo sul rischio sismico e la creazione di un comitato tecnico consultivo. Grazie. Grazie.